MotoGP, Duan. Sarebbe interessante vedere cosa farebbe Marquez sull'HTM. Benvenuti, appassionati di MotoGP. Oggi ci troviamo qui per parlare di uno dei grandi protagonisti della scena motociclistica, Mark Marquez. Ma non saremo soli in questa avventura, perché ci accompagnerà uno dei grandi nomi della storia del motociclismo, Mick Duan. Cinque volte campione del mondo nella classe regina con la Honda, Duan ha lasciato un segno indelebile nella storia di questo sport. Oggi però vogliamo soffermarci sulla situazione attuale di Marquez e sulle sue prospettive future. Marquez è un campione senza precedenti, ha dominato la MotoGP con la Honda conquistando sei titoli in soli sette anni. Tuttavia un brutto infortunio ha interrotto la sua striscia vincente e ora si trova ad affrontare nuove sfide. Mick Duan, davvero esperto del settore, comprende perfettamente la fame di vittoria di Marquez. Come lui stesso ha affermato, Marquez ha bisogno di un ambiente adeguato per continuare a competere al massimo livello. La sua passione per le corse è insaziabile ed è proprio questo che lo spinge a cercare nuove opportunità. Duan ha recentemente assistito alle gare del Mugello, dove ha visto un'impressionante prestazione delle Ducati. Ma c'è stato anche un momento difficile per Marquez, che ha subito una caduta proprio quando stava lottando per il podio. Questo ha dato a Duan l'occasione di riflettere sulla situazione attuale della Honda e sull'opportunità di vedere Marquez su una moto diversa. Il noto giornalista sportivo ha sottolineato che Marquez ha un rapporto solido con la Honda, ma alla fine si tratta di un business. E come ogni atleta, Marquez ha bisogno di un ufficio adatto, un ambiente in cui possa esprimersi al meglio. Al momento sembra che la Honda non stia offrendo a Marquez l'opportunità di raggiungere i suoi obiettivi. Duan ha sollevato l'interessante possibilità di vedere Marquez sull'HTM. Secondo lui, sarebbe un'occasione unica per vedere cosa potrebbe fare il campione spagnolo con una moto diversa. Tuttavia, l'australiano ha escluso l'opzione Ducati, poiché la squadra italiana ha già un solido gruppo di piloti. Il passato di Duan Chi offre un prezioso punto di riferimento. Infatti, quattro dei suoi cinque titoli sono arrivati dopo i 30 anni, quindi conosce bene la fame di vittoria che Marquez prova ancora oggi. Tuttavia, avverte che gli anni passano in fretta e che Marquez deve concentrarsi su ciò che vuole fare. Il noto giornalista ha anche criticato la Honda per aver perso un po' la passione delle corse. Secondo lui, la casa giapponese deve ritrovare l'irrefrenabile voglia di vincere che aveva ai tempi di Duan. Nonostante gli ostacoli attuali, Duan è convinto che la Honda abbia le risorse tecniche e la conoscenza per risollevarsi. La strada verso il successo, però, non sarà facile né immediata. Duan riconosce che l'ambiente della MotoGP è sempre più competitivo, con test limitati e altre difficoltà. Tuttavia, mantiene la sua fiducia nella Honda, sostenendo che con impegno e passione la casa giapponese possa tornare a vincere. E voi? Cosa ne pensate? Sareste curiosi di vedere Marquez su una HTM o preferireste che rimanesse con la Honda? Fateci sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità della MotoGP. Ci vediamo alla prossima puntata!